Cari colleghi e cari colleghe, oggi siamo chiamati a votare un parere che si propone principalmente di delineare i meccanismi di governance multilivello che permettano a regioni e città dell'Unione Europea di contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici concordati a Parigi. La ratifica da parte dell'Unione Europea avvenuta per mezzo di un significativo eccezionale voto unanime del Consiglio e con il consenso del Parlamento ha permesso l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi. Grazie alla rapidità con cui l'Unione Europea è riuscita a raggiungere tale decisione, l'accordo sarà operativo e vincolante in tempo per la COP22 prevista nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, convenzione che si terrà a Marrakesh il prossimo novembre. In quell'occasione l'Unione Europea parteciperà da protagonista e il Comitato delle Regioni costituirà una parte rilevante della sua delegazione. In questo spirito di innovata fiducia nella capacità di mantenere la nostra leadership. Oggi mi rivolgo a voi chiedendo che il Comitato delle Regioni si esprima con forza e coesione a sostegno di una strategia per l'attuazione dell'accordo globale sul clima affinché regioni e città europee possano agire concretamente per la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio. Ramentiamo che oltre il 70% delle decisioni relative alla lotta al cambiamento climatico ricadi su di noi e che le parti contraenti, cioè gli Stati, dovranno presentare i loro piani entro il 2018. Dobbiamo dunque agire con forza per incidere sui nostri governi in vista di piani nazionali realistici ma anche ambiziosi, in linea con la volontà espressa dal mondo intero a Parigi. Il parere che oggi discutiamo propone una serie di iniziative volte a costruire una governance multilivello globale per l'attuazione e l'integrazione delle azioni di mitigazione e di adattamento a partire da una maggiore considerazione delle regioni e delle città all'interno del processo decisionale delle Nazioni Unite. È pertanto fondamentale stabilire un dialogo permanente e diretto tra i diversi livelli, compresi naturalmente quello locale e regionale. Le regioni in particolare svolgono un ruolo fondamentale per le politiche climatiche urbane in quanto possono collegare in maniera coerente ed efficiente alle altre politiche settoriali e locali in un territorio costituito da città a volte piccole e medie con risorse e capacità spesso limitate. Come dimostrato appunto dall'esperienza anche della mia regione in cui non ci sono grandissime città in grado da sole di affrontare problemi così complessi. Integrare la questione climatica nelle politiche territoriali permetterà alle popolazioni locali di beneficiare di una migliore qualità della vita creando opportunità di rinascita economica e sociale anche in aree oggi marginalizzate. Il Comitato delle Regioni è un forte sostenitore, come sapete, del patto dei sindaci dell'Unione Europea e incoraggia i propri membri a partecipare all'iniziativa anche grazie all'istituzione di un gruppo di ambasciatori del Comitato delle Regioni presso il patto per la sua promozione all'interno dei rispettivi Paesi. Noi, Comitato delle Regioni, saremo a Marrakesh con tutti i nostri partner per lanciare il Global Covenant e lavoriamo anche con i Paesi vicini all'Unione Europea, all'est e nel bacino mediterraneo per condividere le nostre esperienze ed aiutare a trasformare le loro città e le loro Regioni in veri motori della lotta contro il cambiamento climatico. Regioni e città incontrano, lo sappiamo tutti, molteplici ostacoli nell'accedere alle misure finanziarie di sostegno oggi disponibili, quali i fondi comunitari e gli strumenti della Banca Europea per gli investimenti. Questo argomento è stato oggetto di numerosi dibattiti nel Comitato delle Regioni e con diversi parti interessate. La Commissione europea, la BEI e gli Stati membri devono, noi crediamo, favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità amministrativa negli enti locali, soprattutto in quelli più piccoli, per metterli in grado di sfruttare pienamente le opportunità finanziarie disponibili a livello comunitario. Mentre il 20% del bilancio dell'Unione Europea è dedicato all'azione per il clima, i criteri climatici non vengono applicati in modo sistematico nei progetti finanziati dai fondi strutturali. Questo aspetto viene considerato anche nella risoluzione del nostro Comitato sulla revisione del quadro finanziario multiannuale, le MFF, che abbiamo appena votato. Per ciò che riguarda il parere in questione, il gruppo del PSE, come gruppo del PSE abbiamo presentato diversi emendamenti, sono una vecina di emendamenti che hanno una motivazione unica e comune. Sono emendamenti necessari con la finalità di allineare il nostro parere alla risoluzione adottata la settimana scorsa, quindi molto recentemente, dal Parlamento europeo. Dobbiamo riconoscere che il quadro del 2030 dell'Unione Europea non sarà sufficiente a raggiungere l'obiettivo di contenere il riscaldamento ben al di sotto dei due gradi. Proponiamo dunque una sua revisione. Devo dire con soddisfazione che siamo riusciti a includere nel testo del Parlamento dei riferimenti chiari sulla necessità di una vera multi-level governance inclusiva delle politiche climatiche e un riconoscimento, appunto davvero importante, del ruolo centrale delle città e regioni e del patto dei sindaci. Voglio ringraziare tutti coloro che nel Parlamento europeo ci hanno appoggiato in questa richiesta e vi chiedo dunque di dare il vostro sostegno ai nostri emendamenti, agli emendamenti che appunto interfacciano il nostro parere con quello del Parlamento. Devo anche chiedervi di rifiutare alcuni emendamenti che invece ritengo indebolirebbero il testo che vi ricordo è stato votato alla unanimità nella Commissione ENVE lo scorso giugno. Noi siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità affinché gli obiettivi climatici decisi da COP21 vengano raggiunti tempestivamente. Mi auguro che questo parere possa essere uno strumento efficace per rafforzare la nostra presenza a Marrakesh e nel prossimo futuro contribuisca inoltre allo sviluppo di una strategia globale che tenga conto del bisogno di costruire governance e consensi necessari ad ogni livello per vincere questa sfida decisiva. Grazie a tutti voi, al mio esperto, ai collaboratori della Commissione ENVE che sono stati davvero preziosi collaboratori. Signor Presidente possiamo passare il voto. Grazie a tutti.